Salta l'uomo, provo a sorprendere a portiere, che gol, splendida rete! Rete da gole a door questa, Drogba è di sicuro un grandissimo giocatore. Un gol che merita di essere rivisto da un'altra angolazione. Un gol che merita di essere rivisto da un'altra angolazione. C'è poco da fare quando si lasciano indisturbati giocatori del genere, poi è normale che ti puniscano. Non possono concedergli un punto a questa libertà per calciare, se non vogliono subire altre reti come questa. Aveva un po' di spazio di pronta a sé, non ci ha pensato su due volte. La prossima volta forse lo marcheranno meglio. Gustiamoci questa rete da una prospettiva diversa. E' dentro il rete, è gol! Chi è il mazzo? E' dentro il rete, è gol! Dovevamo saperlo che è uno che non si tira indietro quando ha un po' di spazio davanti a sé. E' forse il caso di marcarlo più stretto la prossima volta. Non possono concedergli tutta questa libertà per calciare, se non vogliono subire altre reti come questa. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano una saetta, che il portiere non ha nemmeno visto partire. E' intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della posizione. Ed è il rete! Ci vuole coraggio anche solo per calciare da lì. E lui di coraggio ne ha da vendere. Soprattutto con quel piede. Ha battito il portiere con una conclusione imparabile, nonostante la distanza. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano una saetta, che il portiere non ha nemmeno visto partire. Possiamo apprezzare meglio il gol da questa nuova inquadratura. Il lancio arriva sui piedi del compagno, pare che abbia un calibro al posto dei piedi oggi. Infila nel portiere avversario per l'ennesima volta anche nel finale di gara. Sono stati i protagonisti di una performance fuori dall'ordinario Fabio, che darà un'immenso soddisfazione ai loro tifosi. Ormai non si contengono più, splendida rete comunque. E rivediamo questo gol da un'altra angolazione. E rivediamo questo gol da un'altra angolazione.